Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 30 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Giornata del rigore, lotta all'inconcludenza. Per tutta la giornata non avrete pace finché non vi sarete rimessi in pista, sia col lavoro in azienda sia con le incombenze di casa, che sotto tiro di mercurio e urano, desiderosi di stare l'aria aperta, tendete a trascurare. Oggi poi, sotto tiro della luna in quadratura, dinamizzata da Marte in sesta casa, la stacca novista, fate ancora di più, lotta all'inconcludenza e alle perdite di tempo. Se lavorate improprio cambiate regole e ritmi, se fate parte di una squadra, vedendo qualcosa che non gira vi innervosite subito. Finanze rassicuranti, con prospettive d'incasso, comprate qualcosa di utile e raffinato per la casa. La felicità, un rapporto cresce e matura, una coppia nasce con buone prerogative e un concreto futuro. Armonia e annuncio di fidanzamento, matrimonio, convivenza. Gioie profonde in amore che si consolidano e sfociano in rapporti felici e duraturi. Ritorni in amore, gioie condivise, rapacificazioni importanti e definitive. I single presto avranno un nuovo amore e una nuova vita felice. Approfittate di oggi per rivedere amicizie e collaborazioni, è il momento di tirare le somme e di valutare bene il da farsi. In questa giornata alcuni aspetti planetari sono positivi ed altri negativi, dovrai fare attenzione alla tua impulsività. Pensate positivo su tutto e per tutto, anche se il periodo è alquanto incerto, abbiate fiducia nella vita e abbiate sufficiente coraggio per tentare strade nuove. Per i nati di giovedì mattina tra le 9 e le 12 questo è un giorno decisivo, alcune scelte, apparentemente difficili, saranno quelle che vi daranno una nuova carica e un nuovo modo di affrontare i problemi. Per gli altri la fase nuova sarà soltanto più lenta. Oggi sarete particolarmente piacevoli nelle vostre discussioni e attirerete le simpatie di conoscenti amici. Avrete la battuta pronta e saprete districarvi in numerose situazioni. Oggi tentate la fortuna in modo moderato, soprattutto i nati di martedì e venerdì potrebbero realizzare qualche colpo decisamente interessante. Se pensate di aver ricevuto qualche torto in amore, prendete in mano la situazione e chiarite subito, anzi prima. La vostra abituale timidezza potrebbe giocarvi poi qualche brutto scherzo. Datevi da fare, cercate di sostenere colloqui di lavoro e cercatevene assiduamente uno. Per chi lavora già è venuto il momento di impegnarvi di più. Una persona invidiosa si annida intorno a voi, evitate accuratamente ogni scontro con questa e gestite la situazione con pazienza e un sorriso sulle labbra. Movimento dei transiti di questo giorno di fine maggio fondamentalmente positivo. Solo un urano dispettoso, dal segno per voi contrario del toro, può rallentare le vostre iniziative e forse anche limitare le vostre soddisfazioni sportive, in special modo se siete nati dal 9 al 15 di novembre. Contraratissimi dalla luna acuvariana in quadratura e ancor di più dalla coppia mercurio-urano all'opposizione. Anche se il litigio col partner si scatena sempre riguardo alla famiglia, probabilmente la sua, o alla casa, dove voi stentate a dare una mano, la contrarietà che vi portate dentro di lagra all'esterno, a cominciare dal luogo di lavoro, dove con Marte Battagliero cercate compensazione alla frustrazione che provate sgomitando e seminando zizzania anche tra colleghi. Amore ed Eros. Sottile inquietudine, senza nome nevolto. L'amore ha il gusto amarognolo del rimpianto, pensate a una persona uscita dalla vostra vita, magari perché voi stessi l'avete cacciata via. Impossibile rilanciare, ormai avete preso strade diverse, perfino il vostro adorabile micino oggi ha gli artigli da tigre, insomma, tutti nervosi. Saturno vi aiuta a concretizzare alcune mete sentimentali che avevate messo nel cassetto, specie se appartenete alla seconda decade. Per molti di voi può diventare realtà un sogno d'amore coltivato da lungo tempo e, forse, si accompagna al profumo dei fatidici fiori d'arancio. Nettuno è pure al vostro fianco e favorisce successi inattesi. Lavoro e denaro? Inappetenti, sarà la cenetta in famiglia che ieri sera vi è rimasta sullo stomaco. Fortunato chi questa sera ha un impegno di lavoro fino a tardi, almeno scampa il pericolo di un invito vissuto come un peso. Alternativa convincente qualche lavoretto di bricolage a casa vostra. Asseconderete al lavoro oggi lo scorrere naturale delle cose, come sapete fare, senza forzare nulla e non resterete delusi quando il vostro momento arriverà. Ricordatevi che il tempo fa le rose e le coglie. Perché si manifestano i segnali di mutamenti che domineranno le scene negli anni più avanti. Nettuno è il signore di eventi che stanno per verificarsi e in cui voi avrete poi un ruolo di protagonisti, specie se siete nati dal 10 al 15 novembre. Sia che si tratti di un avvicendarsi ciclico degli eventi, sia di un cambiamento radicale, non vi spaventate, la vostra adattabilità alle nuove situazioni è, come molti vostri amici, familiari e conviventi riconosceranno, elevatissima. Benessere. Stomaco sottosopra e stati infiammatori, decisamente non siete un fiore, nemmeno da guardare, a meno che non vi accontentiate di essere paragonati a fiorelli navizzito dai recenti temporali. Ma non finisce qui, emicrania e surplus energetico che vi spinge ad agitarvi, urlare, correre, attenti, in bici rischiate capitomboli. Denaro. Spendete una somma di denaro consistente per organizzare una vacanza estiva prossima con la vostra dolce metà. I soldi ben spesi portano sempre una soddisfazione intima che appaga. Per lei, state allergici o tensione nervosa vi fanno propendere per una serata in poltrona, film, libro e un litro di tisana a portata di mano. Per lui, ancora alle prese con una trattativa infinita o con un lavoro piantato a metà, date battaglia alla pigrizia e all'insicurezza che minacciano di invalidare tutti i vostri sforzi. Ormai siete in ballo, perciò ballate. Colore delle emozioni, blu inchiostro. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.